Domani al Palazzo Ex-Gil in Via Milano a Campobasso si svolgerà la seconda giornata dello sport della Regione Molise. La manifestazione, organizzata dal delegato allo sport della Regione Carmelo Parpiglia, ha l'obiettivo di riconoscere i meriti agli atleti molisani che si sono distinti nel 2014 e concentrare le attenzioni sulla pratica sportiva su tutti i livelli, dalla scuola all'agonismo sino all'amatoriale. Proprio per toccare tutti questi punti l'evento sarà suddiviso in tre momenti distinti. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono all'edizione dello scorso anno. La mattina ci sarà l'incontro con le scuole. A partire dalle 10.30 rappresentanze di studenti della Regione incontreranno gli atleti molisani. Gloria Marinelli, giocatrice della Serie A2 femminile e convocata nella nazionale Under 18 di calcio ed Andrea Brandi Marte, pongista affermato dal CIP. Inoltre saranno presenti al dibattito Sara Simeoni e Pasquale Gravina, due nomi di rilevanza internazionale. Nel pomeriggio alle 16.30 il convegno dal titolo Il talento sportivo ed i fattori ambientali. Come i talenti e la formazione sportiva in sé subiscono influenze da parte della società. Una discussione su come i fattori ambientali influiscono sulla ricerca, la scuola, la famiglia, il contesto sociale e sullo sviluppo, tecnici e professionalità, società sportive, impianti idonei della pratica sportiva. Relatori il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del CIP Luca Pancalli e di testimonial Sara Simeoni e Pasquale Gravina, moderatore come lo scorso anno il giornalista Giacomo Crosa. A seguire le premiazioni dei talenti sportivi ed il premio speciale allo sportivo dell'anno 2014. Ogni federazione presente sul territorio ha indicato il miglior atleta che riceverà l'Ercole Sannita, simbolo proprio della manifestazione. Inoltre premi speciali al miglior atleta master, assoluto maschile e femminile ed anche al miglior giovane. Un evento di rilevanza nazionale per la crescita dello sport molisano e come momento utile per il confronto tra le istituzioni e i presidenti delle federazioni che rappresentano tutto il movimento regionale.